Casa Giove, Benevento Volley 3-1 ma che sofferenza Presidente? Credo che quest'anno le partite saranno tutte così perché ho visto che anche quest'altra squadra è ben attrezzata, si lotta punto su punto, questa volta magari da parte nostra c'è stato il fattore campo che ha determinato di più questa differenza. L'importante però secondo me è pigliarsi ancora qualche piccola soddisfazione, le ragazze hanno giocato bene fondamentalmente e ci vuole ancora un po' più di impegno e si devono ancora realizzare bene i meccanismi delle rotazioni, delle sostituzioni e quant'altro. Vittoria dovrebbe essere, vittoria è stata però a questo punto resta anche un po' di rammarico per quanto ho visto sette giorni fa a Montesarchio. Ma ormai per noi quella è una storia chiusa insomma, neanche ci rammarichiamo più perché forse è destino, la nostra prima di campionato se inizia fuori caso comincia così. E adesso fra sette giorni ci sarà il Real San Gesualdo, che partita si aspetta? Ma guardi io mi aspetto che le ragazze continuino a crescere e che ci sia sempre da parte loro il massimo dell'impegno, poi questo campionato dovrà, dei risultati concreti li incomincieremo a vedere alla fine della girone di andata. Adesso abbiamo necessità di conoscere tutte le altre squadre, come sono organizzate, vedere come sono la classifica e aspettare insomma che facciamo il nostro gioco quando andiamo anche in trasferta. In ogni caso possiamo dire che da oggi inizia un nuovo campionato per queste ragazze? Beh non lo so, è già iniziato per queste ragazze il campionato, più che nuovo vorrei che fossero sempre determinate come i due ultimi set che hanno fatto. Grazie. Buonasera. Grazie. 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 Grazie.